Nella vicenda è il condizionale d'obbligo, visto i tempi di una battaglia avviata da molti anni. Dopo il nulla osta rilasciato dal ministro Toninelli, si può istituire il Servizio di Interesse Economico Generale, in sigla SIEG. È un altro passo in avanti per ampliare l'aeroporto Ginolisa e giungere all'apertura del cantiere della pista. Io penso che dopo questa firma che abbiamo assistito a tutta la vicenda, a più di dieci anni di rimpallo tra aeroporti Puglia, tra i ministeri, tra governo, tra Comunità Europea, dove ci sono delle responsabilità ascrivibili esclusivamente alla regione Puglia, finalmente siamo arrivati a questa firma. Con il nulla osta del ministro Toninelli non dovrebbero esserci più problemi per iniziare i lavori della pista. L'ultimo percorso sembra spianato, fermo a verificare le disponibilità dell'impresa appaltatrice e qualche manufatto da rimuovere. Oggi ci troviamo nuovamente nelle mani della regione che noi ci auguriamo che inizi tempestivamente i lavori. I lavori che hanno già avuto una ditta che si è giudicato questo appalto, quindi non ci sono più strumenti ostativi. Ci sono casi da abbattere? Se c'è quel manufatto da abbattere, quello è l'ultimo problema perché ci impieghiamo meno di una settimana. La regione dice che spetta al Comune? Questo spetta al Comune perché noi abbiamo fatto già l'ordinanza. L'ordinanza se non dovesse eliminare quel manufatto dovremmo procedere in danno dell'abusivo. Quindi questo è un impegno che ho preso, l'istanza è già finanziata, quindi è l'ultimo dei problemi.